Ancora un altro ristoratore oggi ci ha chiamato per un problema che fa riferimento all'occupazione del suolo pubblico. Un ristoratore che veramente da qualche tempo sta subendo le vessazioni del comune, dei vigili urbani, ma non solo. Raccontaci la storia Alessio. Questa storia va avanti da quando ho aperto il locale e sono sottoposto a controlli giornalieri da tutti i corpi, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Finanza, Guardia Forestale, Carabinieri di Porto e di tutto e di più. Da piccoli picci, se possiamo chiamarli così, di un privato che mi accusa non solo il fatto di disturbo dell'equità pubblica la notte, ma anche il fatto del suolo pubblico di un'occupazione di circa 5 metri quadri che serve solamente per garantire l'apertura del locale. Spieghiamo bene questa cosa dell'occupazione del suolo pubblico. Il problema è questo, che il ristoratore vorrebbe mettersi in regola per tutto l'anno, ma non gli è stata data la possibilità perché il regolamento non lo prevede. No, non prevede un regolamento annuale, prevede un regolamento, un'autorizzazione, un'occupazione del suolo pubblico stagionale per 4 mesi. Però che cosa succede? Che i vigili vengono qui perché vengono sollecitati da un privato, in altri posti non vanno forse? No, solamente tramite un esposto scritto, addirittura telefonico, vengono direttamente mirati al locale che è stato segnalato. Non passano da altri locali che... Questo è un problema che l'amministrazione può risolvere nel giro di pochi giorni, credo. E voi avete avuto modo di parlare con l'assessore? Sì, ho parlato con l'assessore Marotta, mi ha garantito, mi ha promesso che nel giro di pochissimi giorni puntano a risolvere questo problema. Non solo per me, ma per tutti i commercianti della città di Mesagne. Perché non è un problema singolo, questo disagio dell'occupazione del suolo pubblico penalizza un po' tutti. Effettivamente noi vogliamo solo lavorare, non chiediamo niente di più, anzi chiediamo di lavorare in regola e di pagare il giusto dovuto affinché piccoli e picci non possano interrompere un'attività imprenditoriale. L'ultima multa è questa qua che ti è arrivata, ieri di quant'è? 180 euro, 181 euro. Che fa riferimento sempre all'occupazione del suolo pubblico? La cosa a sud è che poi si è costretto a, innanzitutto, pagare la multa. Se fanno due multe, se non sbaglio, due o più multe, sempre dello stesso problema, c'è addirittura la sospensione dell'attività da 5 giorni a 5 anni. Quindi sono costretto a prendere le multe, a regarmi da un avvocato e a prendere una difesa civile tramite giudizie di pace, eccetera. Insomma, spieghiamo bene, c'è un problema nella nostra città, ci sono autorizzazioni soltanto stagionali, i ristoratori vogliono pagare, vogliono mettersi in regola per tutto l'anno, adesso è alla politica che bisogna, che deve risolvere questo problema. Grazie a tutti.